Ciao, in questo video parlo dell'acqua negli alimenti, perché molte volte ho sentito dire ah, io bevo poco perché tanto mangio molta frutta e verdura. Mangiare frutta e verdura è un bene e non bisogna essere un medico per capirlo, ma forse non è sufficiente e magari bere qualche buon bicchiere d'acqua in più può aiutare ancora di più l'idratazione del nostro corpo. Questa foto che ho trovato in rete mostra la quantità d'acqua contenuta negli alimenti e possiamo vedere che la verdura ne può contenere tra il 90 e il 95%, la frutta invece tra l'80 e il 90%, però anche molti altri alimenti che vegetariani e vegani considerano meno salutari contengono moltissima acqua, infatti il latte ha la stessa percentuale della frutta, ma anche il pesce, con la sua percentuale che va dal 50 all'85%, o la carne cruda che va dal 65 al 70%, o la pasta asciutta con i suoi 65-75% non scherzano mica. Quindi perché è comunque consigliato bere? Perché il cibo nutre, ma la parte dell'idratazione è data all'acqua. Sicuramente mangiare molta frutta e verdura è un ottimo sistema per mantenersi idratati tutto l'anno, ma soprattutto in estate, che bevendo quando fa molto caldo fa sudare molto perché l'acqua ingerita verrà veicolata per raffreddare il corpo. Però alcuni indicano alcuni momenti della giornata ideali per bere acqua, e cioè appena svegli, mezz'ora prima del pasto, prima di fare la doccia o il bagno, o prima di andare a dormire. Sono assolutamente d'accordo con quanto appena detto, ma aggiungo che è importante bere acqua quando hai sete, perché quello è il momento in cui sicuramente il tuo organismo ne ha bisogno. Sembra uno scherzo, ma non lo è. C'è gente che nonostante la sensazione di sete beve bevande analcoliche, magari gassate, dolcificate, oppure alcolici. Ma quello non è il bere che ha bisogno il nostro organismo. Poi certo, lui si arrangia con ciò che gli diamo, ma quando si ha la sensazione di sete è l'acqua che il nostro organismo vuole. Poi anche i succhi, le bibite, la birra e il vino, ma quello sono un'altra cosa. Una cosa molto importante invece da sapere è quanto beve l'alimento che poi ci mangiamo? Beh, in questo caso frutta e verdura stracciano alla grande la carne, ma anche altri alimenti, perché l'assorbimento di acqua per produrre frutta e verdura è 47 volte meno di quella che serve per produrre la carne. Bene, anche per questo video è tutto. Se hai domande o sei deciso di acquistare un purificatore d'acqua serio, scrivimi o telefonami. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto al prossimo video. Ciao!